Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tastiere Schubert Subi 88 P2 e Piano. Virtuosa pianola elettronica con 88 tasti dinamici, LCD, display a più righe e doppia pedaliera. Molti strumenti preprogrammati, ritmi e canzoni demo. Funzione registrazione. Porta a spartiti e copertura pianola inclusi. La pianola Schubert è uno strumento musicale di qualità per comporre, improvvisare e interpretare musica. 138 diversi samples di strumenti. 118 ritmi preimpostati con i rispettivi passaggi e 31 canzoni demo, sulle quali è possibile intervenire addirittura togliendo la melodia. È un invito a suonare ed essere creativi. Attenzione! La pianola viene consegnata in due pacchi, che pesano circa 17 e 39 kg. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.